è così che vale lo so ok se ne ricordate scriveteci nei commenti quali erano gli aziende che fu usato l'anno scorso ciao ciao grazie di essere qui 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 con me oggi 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 torna un video speciale che esce nel mese di giugno anche l'anno scorso ho fatto un video molto 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 simile quasi uguale ed è un video dedicato ai colori dell'arcobalino non perché io sia una fan dell'arcobalino particolare ma perché giugno è il mese del pride e quindi dedicato alla community lgbtq e io non non faccio parla di questa community ma questo non vuol dire che non voglio supportarla e per diciamo dimostrare il mio supporto ma non solo portare un po' più di visibilità a questa comunità ho deciso appunto ho deciso appunto di riproporre questo video che vi era piaciuto tanto e soprattutto anche per festeggiare questo mese insieme soprattutto agli iscritti del mio canale ai pasticcini che fanno parte della community quindi scrivete qui sotto se siete parte della community se la sentite di dirlo insomma e quindi lo trovo anche attualissimo visto il bisogno della legge del stile e zan tutto ciò per dire che volevo fare questo video come potete vedere cominciamo dal colore giallo e manco a specificarlo ogni commento omofobo e irrispettoso sarà cancellato e bloccato la persona proprio con molta tranquillità quindi ognuno può esprimere la propria opinione ma sempre con educazione e sempre al rispetto delle altre persone perché trovo che si sia un po' persa questa cosa ci siano opinioni un po' proprio irrispettose che non considerano il fatto che siamo tutti esseri umani e abbiamo tutti un cuore cioè davvero quindi il trigger giallo è un trigger un po' per un oggetto un po' così ed è e anche grosso non è sponsorizzato da essere lungo e un sacchetto per la spesa e un sacchetto che secondo me fa un suono molto interessante adoro questo video anche perché secondo me è tutto così in palette bellissimo perché poi cambiano la luce dietro in base ai colori ci sono un'altra ora ci ci sono pari città per Ok, ok. come l'anno scorso ho fatto un pochino fatica a trovare certi colori non non capisco se sia bello se siano giovega nel dubbio passiamo al prossimo trigger questo gialler un po' tosto dalla disperazione perché non ho molti oggetti gialli è così bello è così bello ed eccoci passati 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 all'arancione e con l'arancione ho deciso di riportarvi un trigger che mi avete amato molto l'ho fatto nel video dei trigger mi sembra dalla A alla Z e anche nell'ultimo video pochissimo dei 170 trigger in 10 minuti e sto parlando delle banconote credito di questo trigger totalmente questo è il presidente da Luca SMR assolutamente lui ha il dollaro io ho il dollaro namibiano non lo faccio vedere meglio perché ci sono affezionatissima questo è un dollaro da 20 ha il loro presidente penso sia proprio una repubblica vedete vedete 20 namibian dollars namibia dollars quindi i dollari della namibia e dietro c'è come si chiama? origine mi sembra si chiami quindi dietro appunto c'è l'origine che il l'animale dello stato molti stati africani hanno come diciamo un animale dello stato ma anche non africani per amore del cielo non so se l'Italia abbia un animale voi lo sapete io no e l'origine è un animale veramente particolare perché è veramente resistente ci hanno spiegato perché può resistere anche 5 giorni senza bere ad esempio resiste tantissime temperature le sue corna sono fortissime e altissime ed è forse l'animale che abbiamo visto di più in namibia veramente ovunque anche in posti dove altri animali non sarebbero potuti sopravvivere perché appunto erano troppo desertici o con troppe poche piante troppo poca acqua il signore si chiama dottor sam new joma new joma e vengono distribuite alla bank bank of namibia quanto mi manca l'africa e questo appunto è come vedete arancione quanto è bella avere le cose in palette quanto è bella avere le cose in palette in generale trovo le banconote le banconote la banconote in sé lo trovo un oggetto estremamente estremamente affascinante e che dice anche tanto di una cultura anche il tollaro dice tantissimo degli Stati Uniti anche solo per il simbolo degli illuminati e per tutti i simboli nascosti dice molto e questo e questo invece dice un po' tra l'amico perchè appunto c'è c'è il loro simbolo un animale emozionale quindi trasmette rispetto per la natura ad esempio come valore come valore vorrei proprio fare la collezione quando le prenderò speriamo apprezzare perchè appunto trovo una cosa molto 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 affascinante e non so li trovo un perfetto souvenir da portarsi a casa che evoca subito dei ricordi non so dove sono dei viazzoni forse non saprei che inserisciare che me ne è stupido che ho sbagliato ordine, non ci ho pensato, sono partita col giallo ho sbagliato l'ordine dei trigger, l'ordine della roba lì non è importante, sono i colori, dai non l'ordine, perdonatemi penso che dal rosso passerò al viole, poi al blu e al verde ho creato il bianco paletto, scusate per il colore rosso ho scelto questo quaderno One Color a punto rosso un po' 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 un vi devi dare riflesso della ring light voglio fare un po' di touching quindi mi sto scratching e abbiamo un visual trigger quindi la ring light la ring light la ring light è ci sono gli appunti dei miei ragazzi di postatistica arabo l'albumisto cinese è proprio una cosa portrini a portata ok passiamo adesso dal rosso al viola so che così sembra quasi blu però vi assicuro che dopo noterete molto differenza col blu vero? e per il viola ho scelto questa carta che vi ricordate in un unboxing di prodotti di charlotte liburi adoro solo adoro non 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 Grazie a tutti. Visto che magari qualcuno se lo sta chiedendo, vi dico come faccio io a fare le luci colorate, gli sfondi colorati dietro. Forse non è l'opzione né più economica né più performante, ma per me sono molto comode. E soprattutto danno un'ampia scelta di colore. Uso le lampadine della Philips Hue, secondo me me le ho messe anche giù in descrizione, penso. E... Ne ho semplicemente due qui, attaccate... Ha un supporto diciamo per softbox smontato. E... Posso appunto scegliere anche l'intensità. E... E' comodo perché Essendo attaccate a questo... Diciamo supporto per luci... Scusate il cane. Tra l'altro Amiche gli sta rispondendo nei tagli. Scusate se stanno dicendo, stanno litigando. Dicevo. E' comodo perché li posso spostare da una parte e dall'altra su, tu, da sinistra. Non so, mi ci trovo molto bene. Forse non sono le più funzionali. Però alla fine potete anche sfruttarne in casa. E' comodo, non so, mi ci trovo molto bene. E' comodo, è comodo. se ne ricordate scrivetelo nei commenti quali erano gli oggetti che avevo usato l'anno scorso? io sapete che non mi ricordo il giallo? ah no, si ok? io non mi ricordo tutti non mi ricordo l'uomo ma passiamo al blu il blu in realtà è un oggetto attorno però è un oggetto che ho portato veramente poco secondo me sul canale mai seriamente quindi meglio tardi che mai spero si noti la differenza di colore per il blu vi stavo dicendo ho preso una cosa in realtà azzurra e neanche completamente azzurra però insomma ne siamo quasi ed è questa penna di tiger che ho visto come trigger per la prima volta usato da carlotta smr devo allontanare ora devo allontanare Allora Vivo sto suono Carlotta è super delicata non la mia Carlotta ma Carlotta S&M è super delicata e il suono con lei è bellissimo io non sono così delicata ma ci si prova non la mia Carlotta non la mia Carlotta non la mia Carlotta non la mia Carlotta Grazie a tutti. Non sono fatto da lei più bello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. All'ultimo suono, l'ultimo trigger, il trigger verde, e come verde non potevo, non potevo, non potevo portarvi il, sto dicendo gelatino, il cactus. Ve l'ho proposto spesso, forse, ultimamente, però mai bene. Lo sto proponendo molto di più nelle live, ma qui insomma non mi sembra di proporlo troppo spesso. Quinti. 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 Ok. 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 Ecco, ciletta. No. No. Non mi pungo. Cioè non sto di fare... Semplicemente lo accarezzo, dolcemente gli faccio delle coccole. Ok. 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 Mi faccio. Ok. Contrere... lo trasferite in un vasetto singolo per comodità non so se vi ricordate che in quel vaso è un enorme impossibile da maneggiare non so se vi ricordate che in questo modo non so se vi ricordate che in questo modo non so se vi ricordate che in questo modo non so se vi ricordate che in questo modo non so se vi ricordate che in questo modo bene io vi ringrazio di essere stati qui con me tutto questo tempo in video molto lungo ho cercato anche un po' di compensare i 10 minuti di noi ringrazio in particolare di seguirmi le persone, cioè menzione speciale per persone che mi seguono e che fanno parte della community lgbtq non so se vi ricordate che in questo video non so se vi ricordate che in questo video non so se vi ricordate che in questo video non so se vi ricordate che in questo video non so se vi ricordate che in questo video non so se vi ricordate che in questo video non so se vi ricordate che in questo video a passar le luci e augurarvi a te una buona notte buona notte, ma come va? tosata la penna sogni good night sweet dreams good night good night good night good night just sueños buon nuì buon nuì vede che viagra com'era? lei canoce lei canoce mi stanno insegnando di halloween mi sembra sia o di un ucraino lei canoce me lo studio per me ancora un po' good night good night buonanotte pasticcini miei grazie come sapete tutto il supporto dell'amore che mi date ogni giorno io vi mando un bacione che li spero buonanotte buonanotte buonanotte